A Nocera Superiore va in scena la sagra del gol nella prima giornata del primo turno in Coppa Campania di calcio femminile. Il Benevento batte a domicilio alla Nocerina in una gara da due volti controllata, agevolmente nel primo tempo dalle Sannite e rimessa in discussione nella ripresa dalle Rossonere, condannate però da troppe ingenuità difensive. Al settimo ospiti già in vantaggio con Arianna De Meo ben servita da Giulia Marrone. Il pareggio momentaneo è opera di Giovanna Tortora scattata sul filo del fuorigioco su un lancio da centrocampo. La gioia però dura ben poco perché il Benevento ingrana le marce alte e trova la doppietta di Sara De Girolamo prima con un tiro al volo, poi con la complicità del portiere di casa Anna Sicignano. Il primo tempo termina sull'1-3 nella ripresa, Vanessa Piscitelli cala su punizione il poker che sembra chiudere i conti, ma gli ingressi di Graziana Pizzimenti e Alessia Parlato ravvivano la Nocerina, dando il via ad un botto in risposta che si prolunga fino al triplice fischio. Al quattordicesimo arriva il 2-4 rosso-nero proprio siglato dalla Parlato. Al sedicesimo Alessandra Pisani indovina la parabola che si infila sotto l'incrocio dei pali per il momentaneo 2-5. Ma ancora l'ha parlato, non ci sta e accorcia di nuovo le distanze al ventitreesimo, seguita dopo cinque minuti dalla bella conclusione a giro dal limite dell'area di Annadele Attianese che mette di nuovo in bilico le sorti dell'incontro. L'inerzia sembra essere passata dalla parte delle padroni di casa, ma una colossale dormita difensiva su traversone dalla destra permette a Sara De Girolamo di Sigrale la sua tripletta personale e il sesto gol delle ospiti, che di fatto chiudono i conti e vanificano anche l'attrick personale di Alessia Parlato con una volée in mezza girata che strappa gli applausi dei pochi presenti. Termina dunque 6-5 per il Benevento che inizia col piede giusto in Coppa e attende la visita della Real Salernitana che infine ospiterà la Nocerina per l'ultima gara del primo turno.